Io sono preoccupatissimo rispetto a quel che sta succedendo in Ucraina, dalla mobilitazione in poi sono sempre più preoccupato. Sono preoccupato perché non credo minimamente che sia impossibile nelle prossime settimane l'utilizzo di un'arma nucleare tattica. Ho sempre detto che occorreva trovare una soluzione diplomatica per il bene in primis dell'Ucraina, poi dell'Europa, poi della popolazione russa, per l'amor di Dio. Evidentemente io sono convinto che nessuno l'ha cercata perché l'obiettivo era prolungare la guerra per ottenere il grande obiettivo strategico e geopolitico americano, e vi darò dei fatti e delle informazioni per dimostrarlo, che è quello di separare definitivamente un cordone umbilicale economico e anche politico tra Russia e Unione Europea. Questo è l'obiettivo geopolitico degli Stati Uniti d'America, questo è l'obiettivo principale delle sanzioni, che non avevano come obiettivo la fine della guerra immediata o buttare giù Putin. No, l'obiettivo era, e lo si sta ottenendo e credo che ormai con il sabotaggio ai gasdotti sia definitivamente ottenuto, la separazione definitiva, o quantomeno per i prossimi 20, 30, 40 anni, tra Russia e Unione Europea. E per me questo è negativo anche, diciamo, va contro anche gli interessi europei, ma è un obiettivo strategico geopolitico che gli americani cercano di fare a diversi anni, che hanno ormai praticamente ottenuto e che va a vantaggio esclusivamente loro.